RONIT Non ti aspettavamo? Oh, scusami, dimenticavo. Mio padre è appena morto. E così sei venuta a onorare il rabba? Se no, perché sarei qui. Ciao, Esty. Tua moglie non sarà distratta dal ritorno di Ronit? Tutti ti abbiamo perdonata, Ronit. Per cosa? Per tutto quanto. Non ci aspettavamo di rivederti ancora. Scusate se vi ho deluso. E non ti sei sposata. È importante che questa settimana sia vissuta con onore. È la cosa più importante. Onore. È una follia che tu sia qui. Perché ti sei sposata, Esty? Perché lui sentiva che il matrimonio mi avrebbe curata. Ronit? Sei tu? Esty? Cos'è successo? Dimmi la verità. Dovresti lasciarlo. Farei qualsiasi cosa per te. Lo sai questo. Guardami. Sono sempre stata così. Dobbiamo smetterla. Voglio farti una foto. Dovresti lasci Dovresti lasciare il canale come per nebra. Dieu estuso da a chione. Ciao. Tulesia